signori miei iniziamo questa nuova sequenza numero 5 dopo che abbiamo fatto appunto tutte le missioni per prerace nella parte precedente andiamo con i giannizzeri e sarà una missione molto molto stronza e vedrete perché incredibile i vostri piedi vi ameranno più di vostra moglie cosa non sono sposato buon per voi venite tocca buon per voi no gli affari vanno bene non ho venduto niente i giannizzeri mi hanno confiscato quasi tutti i tappeti perché erano importati conosci tarik barletti il loro capitano è qui da qualche parte un tipo arrogante ma mi insultate signore non posso cederlo per meno di 200 monete è l'ultima offerta quando lo troverò gli chiederò dei tappeti a posto mi volete rovinare forestiero troviamo un accordo a 180 180 monete e l'affare è fatto non è capito che mi servi per scardinare lui allora seguiamo le tracce che forse è la cosa più sicura da fare infatti è comparsa la sua silhouette non è zio vecchio e lentissimo comunque eccolo lì ho detto prima io bomba pirotecnica allora mimetizziamoci nei mucchi di gente certamente non mi disturbano io si detto la bersaglia di roda è lui quindi tranquilli guarda sembra che tutti vogliano dei disegni i disegni della aia soffia disegni della moschera il sultano di iuta venite qua con me va abbiamo di stare due guardie ma non è arrivato ancora il momento di farlo tanto abbiamo degli adepti assassini nuovi che sono tornati e anche a terza mandata bene così non credo proprio non credo proprio entra entra non credo proprio fanno morì non si è accorto che ho derubato fantastico ok ecco un giannizzero realizzazione di maometto inizio a pensare che questo bazar sia la migliore se qui non avete nulla da fare andate altrove fate largo va bene allora muoversi non vi muovete di lì che culo via sopra non ancora sopra zitti zitti buoni 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 ma male che non sto ricercato cioè sono completamente anonimo salute ai vincitori e c'è un tesoro che probabilmente non è stato segnalato ma vabbè si tratta di un incontro importante assicuratevi che nessuno mi segua cosa molto importante allora non si vanno di là quindi questa è l'occasione buona per per fare questo ok buono e noi passiamo obiettivo secondario completato e facciamo questo pensaci tu bravo così vabbè tutto questo per l'obiettivo secondario mica cazzi tranquilli era gente che voleva farvi del bene da sto bastardo qui da sto bastardo nel mezzo della missione prova a rubarmi 1379 axe ok il punto di controllo ce l'abbiamo bene così mi ha pure preso l'obiettivo secondario allora dove sei oh no 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 tu non sei lì tu non sei lì tu non sei lì tranqui funky dichiara la canzone tranqui funky o non ricordo penso di ax forse non ce l'ho bene in mente comunque questa poteva essere una altra grandissima occasione per venire con me ok lui se ne va là e noi usiamo queste cortigiane a tingane per usare un termine carino per passare per passare che bella vabbè potevo fare così ma vabbè perché altro quanto c'hai ancora da camminare tu si gira da un momento all'altro sto stronzo eh lo pensi che vada tutto dritto invece no cioè no la merda si gira come quando è dentro il vc capito la merda si gira altro le guardie si sono pure rimesse lì da quel che vedo si nel bosforo capito lo getterò nel bosforo qua abbiamo una tattica molto più pulita che è questa qua questo è il mio territorio e sono pronto ad affrontare chiunque voglia contestarlo eh son cazzi i tuoi allora chi vuoi proprio male nessuno può mattermi quindi faccio tutto quello che voglio in questa zona sono il puttano dei ciuchi sono il puttano dei ciuchi ok punto di controllo ce l'abbiamo ops no via dai coglioni non hai visto niente vero? no più che altro ho sbagliato perché volevo lanciare la bomba sono abituato con l1 con gli altri giochi tipo uncharted o watchdogs e sono stato fregato vabbè noi stiamo raccogliendo soldi così derubando i ladri vabbè sempre meglio di rubare i ladri che i cittadini onesti per carità tu non mi stai vedendo vero? no bravo a volte avere troppe armi a propria disposizione potrebbe essere un'arma a doppio taglio in questo caso lo si è quasi dimostrato che poi quando lui si gira no a volte vieni individuato perché va nel panico non sai dove nasconderti inizi a correre lui ti individua ancora di più perché corri assurda sta cosa però mi auguro che il viaggio prima o poi finisca appunto quali nuove? manuele ha accettato di incontrarti taric aspetta alla porta dell'arsenale vecchia volpe che non è altra vieni ok 750 acce 100% di sincrono ragazzi più pulito di così cosa volete? ma cosa volete più pulito di così? e andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti